Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, io sono ZP65 e oggi siamo qui con The Legend of Zelda Breath of the Wild. Oggi andremo a vedere il sacrario di Hero Hira e andremo a sbloccare anche la missione del sacrari, la prima missione del sacrari, per non calpestare quei fiori, se non sbaglio dovrebbe chiamarsi così. Allora, io sono in questo punto della mappa qui, proprio al confine nord del centro della mappa, praticamente a nord dei Monti Gemelli. Sono al confine nord del centro della mappa dei Monti Gemelli, praticamente, in questo punto qua, Spiaggia dei Fiori si chiama. Allora, dobbiamo avvicinarci e parlare con questa tizia qui, che ci dirà. Guarda, non sono bellissimi? Ho piantato dei fiori attorno al sacrario. Puoi dare un'occhiata in giro, ma stai attento a non calpestarli. Ed ecco che ci sbloccherà la prima sfida del sacrario, non calpestare quei fiori. Allora, noi dobbiamo, ovviamente, raggiungere il sacrario senza calpestare i fiori. Allora, a volte compaiono, adesso non so se sarà questo il caso, esatto, compaiono dei nemici. Se quelli vanno sui fiori, non fa niente. L'importante è che non ci andiamo noi. Ok, allora, il giro che dovete fare è quello che sto facendo io. Ok, ho toccato dentro con l'ascia e dobbiamo a questo punto ricominciare da capo. Ho toccato dentro con l'ascia. Ok, eccoci, ho ritornati. Vediamo di non toccare più dentro. Ok, e vediamo di raggiungere questo sacrario. Facendo attenzione che anche qua davanti c'è un piccolo cespuglietto di fiori, noi dobbiamo girarci attorno in questo modo. Ed ecco che abbiamo raggiunto il sacrario di Hirohira. Ecco che ci ha dato come completata la mini sfida, la sfida del sacrario. Ok, per quanto riguarda il sacrario, noi dobbiamo semplicemente, in questo punto qui, dobbiamo semplicemente attraversare. Possiamo farlo su queste zattere, tra virgolette. Possiamo farlo anche con il glacier. Adesso qui ho sbagliato il tasto perché ovviamente vado a confondermi con i vari giochi che sto giocando adesso. Qua sotto c'è uno scrigno, uno dei due che troviamo in questo sacrario. Dobbiamo tirarlo su e posizionarlo di dietro, poi comunque lo prendiamo dopo. Io qua, è tutta questa trafila qui perché ho sbagliato il tasto del salto. E se no a quest'ora avrà già dall'altra parte. Se ce la fai a venire fuori, ok. E apriamo lo scrigno, vediamo cosa c'è all'interno. Abbiamo un opale. E il secondo scrigno sarà qui, che però non possiamo prendere col calamitron, come vedete. Ma dobbiamo fargli una colonna sotto col glacier. Dopodiché andare a prendere quello che c'è all'interno. Cinque frecce di ghiaccio. E vediamo che il sacrario di Hirohira è completo per quanto riguarda gli scrigni. Ok, siamo riusciti ad aprirci un barco. E siamo alla fine di questo sacrario. Quindi io, come al solito, vi ringrazio per aver visto il video. Mi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto, vi è stato utile. Mi invito a iscrivervi al canale se volete seguire questa serie e le altre serie che sto portando, che avrò intenzione di portare più avanti e per far crescere il canale. Se volete contattarmi trovate tutti i link dei miei social in descrizione di questo e di tutti gli altri video del mio canale. E trovate anche il codice amico del Nintendo 3DS e del Nintendo Switch, che dovremmo scambiarci. Voi dovrete darmi il vostro per diventare amici. Io vi saluto e ci vediamo a un prossimo video. Ciao!